Il processo di Ascensione. Io sono l'Arcangelo Michele. Amati Maestri. Prima di tutto desideriamo chiarire ciò che l'ascensione non è il vostro attuale stato di evoluzione, l'ascensione del corpo fisico sarà possibile soltanto per i pochissimi Avatar, che hanno aperto la strada all'ascensione dell'umanità verso il livello successivo della coscienza superiore. L'amato Gesù, insieme con molti grandi Avatar ed il Regno Angelico, ha preparato il terreno e piantato i semi cosmici di luce del Creatore in preparazione di questo processo straordinario. Per ascendere nel veicolo fisico in questo momento, dovreste quasi completare la trasformazione del vostro corpo fisico nelle frequenze della luce divina, ed alzare le armonie della vostra canzone spirituale a quelle dei piani più elevati della quinta dimensione ed oltre. È illusorio pensare che sia possibile trasmutare la densità di un corpo fisico triquadridimensionale in un veicolo di luce da quinta dimensione nell'arco di una vita. Voi, Avanguardia, Seme Stellare, stato fornendo il carburante, le particelle adamantine di luce, per attivare i semi dell'ascensione, che sono stati piantati sulla Terra oltre duemila anni fa. L'umanità è in fase di purificazione, in vista di un'espansione di coscienza molto più grande, che sta influenzando sempre più anime mentre spazza la Terra ed accelera in modo esponenziale come risultato. Nell'attuale fase di cambiamento evolutivo, i corpi fisici degli aspiranti barra discepoli sul sentiero sono in procinto di essere infusi con il potere trasformatore della luce del Creatore. Le cellule della coscienza superiore si stanno risvegliando ed esplodendo con la formula alchemica della trasformazione. Siete in procinto di ripulire il vostro campo aurico da una grande quantità di modelli vibrazionali di frequenza negativi barra distorti che hanno offuscato la vostra luce aurica ed hanno portato alla manifestazione di tutte le creazioni distorte all'interno del veicolo fisico. Chiuse nel corpo cellulare sono le tossine che devono essere rilasciate o raffinate affinché possiate ancora una volta integrare le frequenze armoniose della vostra struttura corporea a molti livelli. Le cellule del corpo di luce sono state offuscate, proprio come il campo aurico è diventato nebbioso e congestionato con l'energia negativa. Le cellule divine sono ancora presenti dentro ed intorno a voi, sono soltanto diminuite e si sono offuscate nel corso del tempo per mancanza di nutrimento. È come se vi foste costantemente nutriti di cibo contaminato, che con l'andare del tempo distruggerà il veicolo corporeo. Il corpo dei desideri dell'ego è furbo e perseverante, e vi spingerà costantemente a cercare sempre più sensazioni corporee ed autogiustificazioni, spesso con risultati disastrosi. Dovete capire che le diverse parti del vostro corpo risuonano ad una grande varietà di modelli di frequenza, a seconda della rotazione e della purezza del vostro sistema dei chakra. dovreste sempre cercare la massima armonia all'interno di ogni livello del vostro se superiore, che integrate, ed essere consapevoli, che è un processo senza fine, perché tutti i livelli della creazione hanno un desiderio innato di raggiungere il successivo livello superiore di coscienza. Considerate la teoria che l'umanità stia sperimentando quattro realtà contemporaneamente fisica, mentale, emozionale ed astrale. Nel mondo fisico barra materiale, dove il vostro corpo e i sensi fisici sono l'obiettivo principale, il vostro stato di salute determina quanto siete interattivi nel mondo della fisicità e quanto vi godrete l'esperienza. La vostra progressione verso i regni superiori di coscienza è un processo di risveglio graduale, attraverso il quale vi risvegliate agli ammiccamenti saggezza della vostra anima e del vostro se superiore sopra anima. Quando intraprendete il sentiero dell'illuminazione, avviate il processo per sviluppare una consapevolezza cosciente e attenta. Dovete per prima cosa concentrarvi sugli aspetti fisici del vostro essere e il vostro vascello fisico, il sistema dei chakra, la vostra natura emotiva e le vostre capacità mentali. Gradualmente, nel tempo, quando equilibrate, armonizzate ed integrate un certo grado di coscienza di unità all'interno del vostro stato d'essere fisico, sarete pronti ad accedere ai modelli vibratori, alla saggezza, attributi ed abilità delle realtà della quarta dimensione superiore e quinta dimensione inferiore. Questo è il processo di base, che a volte chiamiamo ascensione nella coscienza. Voi possedete un corpo eterico, che contiene una replica autentica, completa dei vostri corpi fisici, mentali ed emozionali. Quando morite o lasciate il vostro corpo, la corda d'argento come viene a volte chiamata viene recisa, e voi vi ritirate completamente dal vascello fisico, che inizia immediatamente a disintegrarsi. Quello che rimarrà è il guscio del corpo sottile, che è composto da sostanza emotiva e mentale, che deve essere dissolta prima che l'anima possa procedere verso il successivo livello di consapevolezza cosciente. Abbiamo spiegato in precedenza come le anime non risvegliate siano portate in posti che potrebbero essere definiti unità di terapia intensiva dove l'amore barra luce del creatore viene continuamente irradiato verso ed attraverso il campo aurico di ogni anima finché il guscio negativo dell'energia distorta non sia completamente trasmutato. Tuttavia, è importante che comprendiate che la morte barra transizione, il processo della vita dopo la vita è radicalmente cambiato. Nessuna anima va più in quei densi piani astrali in attesa del proprio turno per reincarnarsi sulla Terra. Se siete una persona autoconsapevole la cui canzone spirituale risuona con la quarta dimensione superiore barra quinta dimensione inferiore o doltre, venite automaticamente portati nel piano appropriato dove ogni cosa appare molto simile alla realtà che vi siete lasciati dietro, soltanto molto più grandiosa, più bella e gioiosa, amorevole e serena. Passerete attraverso le porte dei regni celesti del tutto consapevoli. Rivedrete la vostra vita passata come osservatori, e potrete salutare le persone vicine a voi care, tuttavia, lentamente esse passeranno in secondo piano a meno che non siamo membri stretti della vostra famiglia spirituale. Nuovamente, le frequenze che proiettate o con le quali siete in risonanza determineranno in quale dimensione o sottopiano del livello dimensionale sarete portati, ed anche i livelli delle informazioni cosmiche ai quali potrete accedere. Il vostro campo aurico è come un mantello che avvolge i vostri corpi eterico-astrale, ed è un mantello di luce o un sudario di energia negativa, disarmonica che avete accumulato nel corso delle molte esperienze delle vostre vite passate. Siete composti di unità di energia mentale, emozionale, fisica, astrale e spirituale. Dovete imparare ad accettare il fatto che siete una creazione di forte energia, una scintilla originale della coscienza divina. Come co-creatori autoconsapevoli, siete anche coloro che dirigono l'energia tramite forti pensieri, azioni ed intenzioni. Voi esistete in un vortice di energia a forze energetiche comprendenti o la sostanza di forza vitale primaria, la luce a spettro dimezzato delle dimensioni inferiori, o le meravigliose onnicomprensive particelle adamantine di luce del creatore dei regni superiori di coscienza. Lo stato mentale della vostra mente e la qualità o risonanza della vostra natura emotiva determinano il risultato dei vostri sforzi creativi. Come co-creatori, modellerete e manifesterete le vostre idee e pensieri creativi e poi dovete sperimentare la conseguente espressione manifestata dei vostri pensieri ed azioni così stabiliscono le leggi universali. Voi dovete diventare gestori efficienti delle forze di energia cosmica. Diventate osservatori consapevoli e praticate il distacco. Non lasciatevi attirare in un vortice di energia negativa creata dagli altri. Imparate a restare saldi ed in controllo, in qualità di gestori della vostra sacra energia. Non permettete a nessuno di disturbare la vostra serenità e la vostra natura armoniosa. Tuttavia, per favore ricordate, se occasionalmente avete un momento umano, fermatevi e fate un profondo respiro e ritornate al centro, mentre emettete un'esplosione di fiamma viola per trasmutare e dissolvere qualsiasi energia discordante. A volte siete troppo duri nel giudicare voi stessi. La perfezione non è prevista, cari cuori. È lo splendore del vostro Sé superiore, sopra-anima, che gradualmente penetra e permea i vostri corpi fisici ed emozionali, rilasciando così gradualmente qualsiasi detrito astrale e negativo accumulato. La luce combinata della sopra-anima di tutta l'umanità sta gradualmente dissolvendo i modelli vibratori contaminati, distorti dei piani astrali, che in passato sono stati chiamati coscienza collettiva, i modelli di pensiero negativi dell'umanità. L'amore, la serenità e la gioia sono le principali qualità dell'anima superiore. I pensieri di gran parte delle persone sono generalmente casuali e privi di concentrazione. Abbassare le frequenze delle vostre onde cerebrali o imparare a mantenere uno stato alfa di coscienza fornisce un obiettivo nitido dei processi di pensiero in corso ed ha una chiara direzione alla mente subconscia. Le tecniche alfa-masteri sono uno strumento profondo e potente. La vostra mente pensante consapevole comprende, ma è la vostra mente subconscia, che elabora le informazioni entranti e passa all'azione. Diventare un maestro alfa e mantenere il livello alfa appropriato di consapevolezza vi permetterà di parlare ed interagire con la vostra mente subconscia. Questo va oltre il potere della volontà mentre sviluppate l'abilità di comunicare direttamente con la vostra profonda istintiva, mente interiore e la vostra sacra mente. Vi troverete a prendere le decisioni migliori e a fare ciò che è giusto per raggiungere i vostri obiettivi in modo naturale. Il processo di ascensione inizia quando il vostro se spirituale ha ripreso la sua giusta posizione come regista del se fisico. È come se un interruttore d'accensione fosse stato premuto nel vostro DNA, che contiene la matrice del vostro perfetto corpo di luce di Adam o Eva creato dagli Elohim, signori della forma, è l'archetipo dell'umanità, l'essere divino originale in una forma di luce pienamente cosciente. Una serie di codici latenti vengono attivati attraverso le frequenze superiori di luce che avete iniziato ad integrare. Questi modelli vibrazionali di luce contengono codici specifici di colori ed armonie, che influenzeranno tutte le cellule e gli organi all'interno della forma corporea. Gradualmente, le cellule inizieranno ad assorbire e a metabolizzare la luce, e queste cellule portatrici di luce inizieranno a permeare e ad influenzare l'intero vascello fisico. Viene così avviato il processo di trasmutazione, a causa del quale tossine, traumi emotivi, ricordi ed esperienze dolorose memorizzate in tutto il corpo inizieranno ad emergere, creando una moltitudine di sintomi fisici disagevoli mali e dolori in varie parti del corpo, sintomi parainfluenzali, mal di testa, confusione e perdita temporanea della memoria, per citarne solo alcuni. Il successivo livello di ricostruzione del campo aurico coinvolge il corpo emotivo ed i piani astrali di coscienza. Nell'evolvere, il vostro corpo fisico diventa capace di integrare sempre più cellule di luce a frequenza raffinata. La vostra realtà quadridimensionale inizia a sgretolarsi ed il vostro mondo illusorio diventa distorto e confuso. La struttura del vostro credo religioso può iniziare a sgretolarsi, facendovi sentire vulnerabili e senza guida o direzione. A questo punto c'è una fusione del Sé Superiore per mezzo del quale la vostra Stella dell'Anima all'Ottavo Chakra inizia ad inviare impulsi fasci di pacchetti di luce delle frequenze superiori alla vostra Sacra Mente, Sacro Cuore e l'intero sistema dei Chakra. Questi fasci attivano le vostre capacità intuitive e contengono anche informazioni vitali per una maggiore comprensione di chi siete realmente e può anche attivare un'insoddisfazione divina interiore. La vostra cellula adamantina divina adesso sta integrando sempre più luce divina, che attiva ed aumenta il potere dei raggi della coscienza divina nel centro del vostro Sacro Cuore. Questo processo è programmato nella vostra Matrice Divina ed è anche codificato nel vostro DNA. A questo punto, le vostre cellule hanno iniziato a rispondere alla Luce come loro principale fonte di energia. Questa è la ragione principale per cui gli aspiranti sul sentiero spesso cambiano radicalmente la loro dieta per cibi meno densi, perché i loro corpi fisici ed emotivi vengono saturati con le particelle adamantine di luce e il cibo degli dei. Mentre li spostate sempre più in profondità nei regni della luce raffinata, i sensi fisici possono migliorare, e la vostra consapevolezza dei colori e del suono aumenterà. Il rafforzamento dei sensi fisici indica che le cellule all'interno del vostro campo aurico stanno iniziando il compito di ripulire l'energia densa, restrittiva che si è accumulata nel corso di molte migliaia di anni. La prigione nebbiosa, che ha ottenebrato i sensi ed ha tenuto l'umanità in schiavitù viene progressivamente inondata dalle cellule di luce, e di conseguenza il campo aurico diventerà più splendente mentre sempre più anime si risvegliano al divino potenziale interiore. Il corpo fisico deve gradualmente essere riportato agli effetti trasformativi della luce vivente al fine di rivendicare la forma del corpo di luce originale, che era progettato per tutta l'umanità. Amati, non prestate attenzione al caos e alla distruzione, che dilagano sulla Terra in questo periodo. Vivete ogni giorno centrati nel vostro Sacro Cuore barra Centro Solare di Potere in modo da poter integrare nel vostro vascello fisico la massima quantità di luce del Creatore, e poi irradiate quel prezioso dono verso il nucleo della Terra e fuori verso il mondo della forma. Sappiate che gli sforzi congiunti dei servitori del mondo su tutto il pianeta stanno facendo la differenza. Siamo una forza per il massimo bene che non può essere negata. Sono per sempre il vostro fedele custode e protettore. Io sono l'Arcangelo Michele. Traduzione di Madda Cermelli. Trasmesso tramite Ronna Herman. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Grazie.